Ciao a tutti, sono quasi le 6 e sto andando verso Torino a un evento FOA Parleranno di come sta andando il mercato, comunque come è la loro situazione Ma ci porteranno anche a giro a varie tenute e all'università del gusto per fare degli assaggi e delle degustazioni Quindi saremo ospiti di FOA e quindi vado perché quando si parla di cibo sono sempre il primo Infatti mi sono svegliato molto presto e spero di arrivare in tempo perché forse l'ho calcolata male Ancora prima dell'autobus, sono arrivato da FOA Ce l'ho fatta E non è niente Musica Questa è la mia stanza dove pernotterò perché è un evento che si prolungherà fino a domani Io, vabbè, l'ho già occupato, ho già fatto il check-in E ora andiamo a pranzo e dopo ci sarà la conferenza di Panasonic classica su come sta andando il mercato E insomma se siamo stati bravi o meno Quindi ci vediamo, ci vediamo dopo Ok, dopo il pranzo ci stanno facendo fare il tour della tenuta Infatti potete vedere là la torre e la chiesa, insomma, costruita insieme a tutto il resto E dopo il tour andremo alla conferenza Ok, la riunione è finita E guardo se mi riesci ad intercettare qualcuno di FOA O anzi di Panasonic Per farmi dire qualcosina di più sulla S1H Quindi incrociamo le dita Ok, sono riuscito a trovare Luca Che mi ha fatto vedere la S1H Infatti gli ho chiesto un paio di cose Farò uscire un video E niente, adesso ci incontriamo nella hall della tenuta E andiamo a fare una degustazione di saldufo e di vino Ok, allora la giornata è finita Siamo tornati tutti in albergo È stato molto interessante per tutti gli aspetti della giornata Dal meeting, perché loro di FOA hanno parlato di tante cose interessanti Come le promozioni che saranno attive da dicembre o comunque fine mese Ovviamente la degustazione che ci hanno fatto fare Il giro del complesso in cui ci hanno ospitato È veramente, veramente interessante Tutto molto bello Infatti potete vedere la mia camera è bellissima Però, tornando alle cose importanti Per quanto riguarda le promozioni Ho fatto un video riguardo Ora non proprio riguardo alle promozioni Però comunque sono riuscito a intervistare Luca Un ragazzo di Panasonic sulla S1H E su un bundle in particolare Che hanno in progetto di lanciare Che vede? È un kit formato da Ronin SOSC In combinazione con varie fotocamere di Panasonic Per esempio la G80 e la G90 Non ricordo di preciso Però comunque ovviamente trovate il link in descrizione Appena sarà online Probabilmente la settimana prossima Quindi attivate la campanella delle notifiche Per sapere quando sarà online Io per stasera mi fermo qui Domattina comunque ripartiremo Perché sempre loro di fova Non altro meeting in programma Riguardo i brand Che Gli altri brand che distribuiscono Tipo Samyang Zeiss E appunto DJI Quindi Continuate a vedere il video Io però Vado a letto Buongiorno Oggi tocca al meeting di Samyang Zeiss DJI E Fingtang Sembra E qualcos'altro Insomma Il brand Che come dicevo ieri sera Disbusche fova Vado a fare colazione Se mi riesce Vado al meeting E quindi Ci vediamo dopo Ciao Ok, allora, il meeting è finito, abbiamo parlato di tante cose interessanti, cioè hanno parlato di tante cose interessanti, qualche anticipazione come per esempio i Samyang, gli X-in CF che sono praticamente dei fratelli minori degli X-in dedicati proprio però a Mirrorless di Sony e Reflex e Mirrorless di Canon per ora, questi sono i due innesti. Io comunque il video lo concludo qui perché ora andiamo a pranzo semplicemente, poi torniamo verso la sede di FOVA e poi da lì io tornerò in negozio se riesco a tornare in tempo, altrimenti ci vediamo domani. Comunque, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e attivate la campanella per sapere quando usciranno i prossimi video perché vi ricordo, se non ve l'ho già detto, che uscirà il video sulla S1H, una breve presentazione di Luca, un ragazzo di Panasonic, quindi insomma attivate la campanella per sapere quando uscirà, poi ovviamente se avete domande sull'evento o comunque su qualsiasi cosa riguardante FOVA, quindi Samyang, Zeiss, Pentax, Riku, DJI, Think Tank, insomma tutto quello che avete da chiedere, chiedetelo anche al di là di FOVA. Io il video, dicevo, lo concludo qui e ci vediamo al prossimo, quindi da tutto è tutto, arrivederci.